benvenuti a pc e instruments sono lucas ludwig e oggi vi parlerò in dettagli delle bilance a piattaforma le bilance a piattaforma sono dei sistemi di pesatura dove il piatto in rapporto a tutto il dispositivo è abbastanza grande e dove il display è di solito separato dalla piattaforma il campo di pesatura delle bilance a piattaforma oscilla tra 1,5 kg e 600 kg le bilance a piattaforma si collocano sopra un tavolo o sul pavimento qui può vedere una piccola selezione di piattaforme con dimensioni che vanno da 20 per 20 a 60 per 90 centimetri in questo modello il display è montato su un supporto e ciò consente di visualizzare i valori di misura e di utilizzare la bilancia a piattaforma con facilità anche quando sulla piattaforma è stato messo un oggetto di grandi dimensioni anche se collocata sul pavimento l'altezza consentirà di maneggiare la bilancia comodamente gli altri schermi sono di solito collegati con un cavo in modo da poterlo posizionare sul tavolo o montarlo su parete adesso vi parlerò dettagliatamente di ciascuno dei due modelli qui possiamo vedere una piattaforma con una sola cella di carico e in questo caso con varie celle di carico a prima vista si può notare una differenza nell'altezza e adesso spiegherò che cosa implica vediamo quella con una sola cella di carico e togliamo la piattaforma la piattaforma può essere fatta di vari materiali in questo caso è di acciaio inox ma potrebbe essere di legno plastica o di altro materiale come si può vedere sotto la piattaforma c'è la cornice superiore questo telaio ha dei punti di appoggio e un design stabile per evitare possibili deformazioni della piattaforma si nota perfettamente in questi modelli per carichi superiori qui vediamo che il telaio è ancora più stabile dopo aver rimosso il piatto di pesata possiamo vedere che integra una sola cella di carico si tratta di una sola cella di carico incorporata al centro questo modello richiede requisiti speciali alla cella di carico un carico sbagliato può causare danni d'altra parte ottiene una elevata precisione importante per molti processi di pesatura per evitare danni vengono implementate celle di grandi dimensioni in questo caso abbiamo una bilancia con un range massimo di 1,5 kg tuttavia per questo modello utilizziamo una cella di carico di 6 kg oltre alla sovredimensionata si inseriscono in ogni angolo delle viti che limitano meccanicamente il percorso questa precauzione serve affinché la forza della leva che sono esercitate come conseguenza di una forza decentralizzata non danneggi la cella più il carico si allontana dal centro della piattaforma più influisce la forza della leva nella cella di carico questo è il motivo per cui ogni cella di carico alla dimensione massima della piattaforma definita in modo che la bilancia non sia danneggiata l'utilizzo di una cella di carico singola consente di lavorare con piattaforme di dimensioni di 80 per 80 centimetri in alcuni modelli queste viti sono anche utilizzate come sicurezza per il trasporto sono aperti al massimo in modo che non ci sia gioco tra il telaio superiore quello inferiore evitando che durante il trasporto la cella di carico venga sottoposta nessun tipo di sforzo pertanto quando si riceve questo tipo di bilancia è importante verificare che la cornice superiore e la cornice inferiore non entrino in contatto e che la forza venga esercitata solo nella cella centrale la cornice inferiore agisce allo stesso modo della cornice superiore cioè quello che fa è assicurare che la forza esercitata sia stabile e che la bilancia non si deformi ci sono poi i piedini di supporto per livellare la bilancia su superfici irregolari per livellare le bilance viene incorporata la bilancia una livella a bolle che si regola muovendo i piedini di appoggio parliamo ora dei modelli con più celle di carico queste bilance sono costruite in modo tale che l'interno non sia facilmente accessibile ecco perché ho preparato qualcosa la piattaforma di questa bilancia della serie pb l'ho già preparata per smontarla velocemente in questo caso rimuoviamo prima anche la superficie di pesatura e vediamo che sotto c'è anche in questo caso una cornice per evitare la deformazione delle celle di carico se rimuoviamo la cornice sarà visibile quello che non lo è in un modello con una sola cella di carico qui si vedono quattro singole celle di carico in ogni angolo che catturano la forza simultaneamente in questo modello abbiamo una sola cella ma in questo tipo di modello abbiamo quattro celle di carico distribuite sugli angoli della bilancia le celle sono collegate fra loro attraverso un cavo e un solo cavo viene collegato al display il problema è che ho quattro segnali che devo portare a un denominatore ciò è possibile con celle sincronizzate e con resistori integrati nell'elettronica se non si esegue questa sincronizzazione può accadere che si sposta il carico in ciascun angolo e si ha un valore di pesatura diverso le celle sono più piccole poiché la carica è distribuita in più punti tuttavia questo tipo non raggiunge la stessa precisione di una bilancia con una sola cella le piattaforme con cella di carico sono solo una parte del sistema di pesatura il segnale della cella di carico e di un milivolt e abbiamo bisogno di uno schermo che amplifica filtra e valuta il segnale a seconda del tipo di schermo si otterranno diversi tipi di precisione e diversi tipi di funzioni ad esempio abbiamo qui una bilancia di 150 kg con una risoluzione di 50 grammi significa che quando collochiamo un peso e aumentiamo o diminuiamo il peso lo vediamo in step di 50 grammi questa bilancia qui è un modello da 30 kg che integra una singola cella di carico la particolarità è che doppia ora mostrerò cosa significa la doppia funzione significa che il carico massimo in questo caso 30 kg e suddoviso in due campi di pesatura qui osserviamo che nella gamma inferiore abbiamo una risoluzione di 2 grammi cioè l'aumento e la diminuzione sono fatti in passi di 2 grammi il range di pesatura di 30 kg è diviso in due range il valore limite e 15 kg quando superiamo i 15 kg osserviamo che l'aumento di peso viene ora seguito con incrementi di 5 grammi questa è la funzione di pesatura doppia tenere presente che la risoluzione non ha nulla a che fare con la precisione se si acquisisce una bilancia non omologata si noti cosa dice la scheda tecnica sull'incertezza nel caso in cui non sia indicato viene utilizzata una regola empirica la formula empirica indica che l'incertezza è tre o quattro volte la risoluzione questa bilancia con una risoluzione di 50 grammi ha un'incertezza massima di 200 grammi la bilancia doppia da 30 kg ha una risoluzione di 5 grammi nella gamma superiore l'incertezza in questo caso fino a 20 grammi per le bilanci omologate la risoluzione l'incertezza e i rispettivi valori di verifica sono identici l'indicazione dei valori sullo schermo è una cosa un'altra cosa è che di solito vengono utilizzate nelle bilanci a piattaforma le interfacce aggiuntive la maggior parte delle bilanci a piattaforma integrano un'interfaccia che consente di trasferire i valori su un computer o una stampante altre interfacce possono essere un'interfaccia analogica rispettivamente un'interfaccia a relais che consente di attivare un relais quando si supera un valore limite e quindi di regolare un processo questo modello che ho davanti integra un'uscita a 420 mA che illustrerò ora qui abbiamo una bilancia a piattaforma con un'uscita analogica di 4 a 20 mA ciò significa che quando la bilancia non ha carico lo schermo indica 0 grammi quindi osserviamo in uscita 4 mA se colleghiamo un peso cambia il valore sul display e il valore dell'uscita analogica i 20 mA si ottengono quando si raggiunge il carico massimo della bilancia in questo caso sono 1,5 kg come puoi vedere il segnale analogico è proporzionale al carico le uscite analogiche da 0 a 10 volt o come nel nostro caso 4 a 20 mA sono interfacce standard rispettivamente un segnale standard presenti in molte applicazioni grazie a questo è possibile integrare facilmente queste bilance nei processi esistenti per selezionare la bilancia piattaforma corretta è importante selezionare il range di pesatura e la precisione il campo di pesatura può influenziare la precisione e in base al fattore più importante sarà necessario cercare un compromesso un altro criterio importante quando si seleziona la bilancia della piattaforma è determinare la dimensione questo dipende dal tipo di oggetto è necessario tenere conto del fatto che le dimensioni della piattaforma siano conformi alle oggetti da pesare ricordarsi di evitare l'effetto leva su modelli con una singola cella di carico in ogni caso è consigliabile evitare forze laterali e trasversali per aumentare la durata delle celle di carico una possibilità è l'uso di alcuni rulli questo è montato sulla piattaforma e diminuisce le forze di attritto che potrebbero esercitare sul piatto della bilancia per la selezione dei corrispondenti dispositivi di visualizzazione è importante sapere come devono essere trattati i valori dobbiamo assicurarci che lo schermo offra la precisione, le funzioni e le interfacce corrispondenti necessarie per la pesatura spero di aver dato un'idea delle bilance a piattaforma non andrò ora ad analizzare in dettaglio le funzioni di ciascuna bilancia sul nostro sito web troverà maggiori dettagli tecnici sulle bilancia piattaforma su www.pc-instruments.com 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 www.pc-instruments.com